Quali sono gli errori peggiori e più comuni che commettono i principianti dell'acquerello? Vediamolo insieme! Allora, il primo errore che mi viene in mente riguarda gli strumenti, in particolare il pennello, che spesso è troppo piccolo per poter dipingere agevolmente. Secondo me si tende a pensare che il pennello piccolo ci dia più controllo, ma in realtà rende la pittura molto più difficoltosa, perché il colore si scarica subito, perché il serbatoio del pennello è poco capiente e questo non ci permette di realizzare delle belle campiture piene, fluide e contribuisce alla formazione di margini definiti, laddove invece non li vorremmo, perché facciamo la pennellata, quella già si esaurisce, si asciuga e forma la riga. Con invece un pennello sufficientemente grande avremo molta meno difficoltà nel riempire e dare corpo e tono alla zona che stiamo dipingendo. Oltretutto i pennelli per acquerello sono molto versatili perché sono capienti, ma hanno anche una punta che permette quindi di realizzare sia le campiture, sia i dettagli, quindi non dobbiamo scegliere tra le due opzioni. Possiamo sfruttare appunto il serbatoio capiente e la punta affilata. Se non sapete quali pennelli comprare, quali materiali vanno bene per l'acquerello, c'è un video dedicato che vi lascio qui in alto a destra e sotto in descrizione. Il secondo errore, sempre legato al pennello, è di usarlo come se fosse una matita, cioè fare prima un contorno e poi riempire proprio come se fosse un libro da colorare. Questo è il metodo migliore per creare campiture disomogenee, piene di pennellate visibili, uccidendo la freschezza dell'acquerello. Anche con un pennello così piccolo, che come vi dicevo prima non vi consiglio di usare per le campiture, vi faccio vedere che è possibile evitare questo effetto matita, chiamiamolo così. Intanto perché prendo abbastanza colore e abbastanza acqua, quindi il mio pennello è bello lucido alla vista, bello pieno, e poi cerco di fare poche pennellate comunicanti tra loro, così posso evitare di formare delle righe e dei margini. Cerco di essere veloce, così non si asciuga nel frattempo, e questo mi permette di ottenere, vedete, un riempimento omogeneo e gradevole. Cosa succede se invece ho il pennello troppo scarico? Siamo al terzo errore e vedete che se non prendo abbastanza acqua e colore, la pennellata si esaurisce subito, si asciuga immediatamente, e ho di nuovo quell'effetto secco non voluto. Il pennello scorre a fatica e niente, vedete da soli quanto è brutto il risultato. Poi ci sono dei casi in cui ci serve avere il pennello secco per creare dei particolari effetti, però è l'eccezione e non la regola. Però possiamo fare anche l'errore opposto, ossia utilizzare troppa acqua nel pennello. Ci rendiamo conto di aver fatto questo errore quando vediamo proprio che c'è uno spessore dell'acqua sul foglio e quando si asciugherà vedremo dei bordini leggermente più scuri. Un altro errore consiste nell'usare l'acquerello come fosse tempera e quindi usare il colore troppo denso, non diluirlo abbastanza. Per capire se state facendo questo errore, notate se il pennello fatica a scorrere sul foglio o meno. L'effetto deve essere simile a questo, cioè il colore è pieno ma il pennello può scorrere, il colore può muoversi un po' sulla superficie del foglio bagnato prima di asciugarsi perché appunto lo abbiamo diluito con abbastanza acqua. Ovviamente il grande dilemma, la domanda quanta acqua e quanto colore devo usare è veramente la grande domanda dell'acquerello e non esiste una sola risposta perché dipende da troppi fattori, cioè quanto vogliamo che il colore sia diluito, quanto è grande l'area che dobbiamo coprire, se il foglio era bagnato o asciutto, che tipo di pennello stiamo usando e la sua grandezza, insomma purtroppo non c'è una risposta univoca. Però lo capiamo qual è la giusta quantità di acqua e colore con la pratica, ma con una pratica ragionata, nel senso che non dobbiamo andare a caso e sperare che funzioni. Per esempio, ecco un altro errore, non dobbiamo mai farci mancare della carta assorbente a portata di mano, così appena vediamo che abbiamo messo troppa acqua nel pennello, lo tamponiamo un po'. E in questo modo aggiustiamo la diluizione, ci poniamo in maniera attiva e non passiva verso questa difficoltà di capire quant'acqua usare. Se non abbiamo lo scottex a portata di mano, il rischio è che continuiamo a usare il pennello così com'è senza aggiustare questa diluizione. E tamponate il pennello alla base e non verso la punta, così non levate tutto il colore. Il settimo errore dipende dall'impazienza. Questo l'ho visto fare moltissimo e secondo me ci vuole veramente poco per evitarlo, cioè non aspettare che la carta asciughi per procedere con lo strato successivo. Allora, vi capisco, è palloso aspettare, ma per fortuna abbiamo il nostro amico Fon che risolve il problema in pochi secondi. Come vedete, se si lavora sulla carta umidiccia, che non è più né completamente bagnata né asciutta, si creano delle macchie, le forme non vengono definite e facciamo un gran casino. Ma lo volete sapere qual è l'errore più grande di tutti? È un errore fatale perché porta a smettere, porta a rinunciare. E infatti si tratta proprio di arrendersi troppo presto, pretendere risultati subito senza darsi il tempo di fare prove, imparare, sbagliare, migliorare, risbagliare, capire qualcosa di questa tecnica così difficile e andare avanti. Ma voi pensate che chi sa dipingere ad acquerello sia sempre stato in grado di farlo? Le schifezze sono parte fondamentale del processo di apprendimento, quindi dovreste trattarle con un po' di rispetto. Le soddisfazioni arrivano, ma ci vuole un po' di pazienza. Sarà scontato dirlo, ma ci tengo a farlo perché nella mia esperienza di insegnante ho visto troppe persone mollare per chi si aspettavano di riuscire al primo colpo. Troppo ego, troppe aspettative. Siate umili e pensate alla pittura come alla musica. Ci vuole tempo, pratica, gli insegnanti giusti, dedizione e determinazione. Mi raccomando. Se volete fatemi sapere qua sotto quali altri errori fate o avete fatto quando avete iniziato con l'acquerello. Io vi auguro buona pittura e noi ci vediamo presto nel prossimo video.